Parliamo del mindset per diventare imprenditori. In questo video in particolar modo mi vorrei soffermare su quelli che sono i tre step fondamentali per poter non soltanto adeguare il proprio mindset a questo ruolo, quindi quello dell'imprenditore, ma in ultima battuta per permetterti poi di raggiungere quel risultato economico che evidentemente in questo momento gli sta a cuore. Quindi mi raccomando segui fino alla fine in modo da scoprire quali sono questi tre step. Prima di iniziare però mi presento perché magari è la prima volta che partecipi ad un video del sottoscritto, il mio nome è Roberto Maria Vadalà e sono la massima autorità in Italia in tema di riprogrammazione mentale. Non a parole ma con i fatti. Ora lo so, lo so quello che vorresti dirmi, forse un po' troppo esagerato, un po' sbruffone, un po' qui, un po' lì, il fuffacuro di qua, il fuffacuro di giù, di su, di eh, fermi. Vi do un paio di informazioni e vi invito soprattutto poi a cercare su internet quanto sto per dire in modo tale da constatare se effettivamente sono parole o fatti. Allora, innanzitutto sono un consulente certificato della società di Bob Rottor, nonché uno studente di successo di Bob Rottor. Sono l'unico italiano ad aver rilasciato un'intervista alla PGI, che è appunto la società di Bob Rottor, ed è un motivo molto ben chiaro, molto preciso. Perché sono riuscito a passare da 0 a 100.000 euro netti al mese grazie agli insegnamenti, ma soprattutto applicando poi quegli insegnamenti che ho acquisito da Bob Rottor. Quindi sul canale della PGI, in inglese, troverai la mia video intervista. Dicevo, sono un consulente certificato della società di Bob Rottor. In questo momento sono l'unico consulente italiano a far parte dell'Inner Circle e del Circle of Excellence, nonché l'unico consulente italiano certificato ad aver ricevuto il riconoscimento Pinsilver. Dopodiché sono anche un imprenditore e un formatore. La mia società che ho fondato si chiama VMR Consulting, è la società leader in Italia in tema di riprogrammazione mentale applicata al business. Gli studenti del sottoscritto, solo nell'ultimo anno, hanno registrato incrementi nei propri guadagni mensili nell'ordine del 927%. C'è una playlist qui su questo canale con 40 ore di video testimonianze, quindi lascio poi alla tua curiosità scoprire tutti i dettagli del caso. Ora, questo video è dedicato quindi al mindset per diventare imprenditori e a me sembra giusto anche sciorinare qualche dettaglio in più sulla mia carriera imprenditoriale, perché giustamente se sei qui è perché stai cercando informazioni per diventare un imprenditore di successo o magari per migliorare i tuoi risultati come imprenditore e come è normale che sia, probabilmente in questo momento puoi sapere se sono la persona giusta per te. Ti dicevo, sono passato da 0 a 100.000 ronetti al mese utilizzando la riprogrammazione mentale nel mio business, dopodiché sono anche andato oltre e ho fatto il mio primo milione nel 2021, risultato che ho anche bissato nel 2022 nel primo trimestre. Quindi se si tratta di partire da 0, così come se si tratta di scalare il proprio business, sono la persona che fa il tuo caso, specialmente se in questo momento ti rendi conto che c'è qualcosa a livello di mindset che devi modificare, cambiare, migliorare per ottenere questi risultati. Quindi quali sono i tre step fondamentali per costruire questo mindset imprenditoriale? Nel raccontarteli vorrei anche darti qualche dettaglio del mio vissuto, perché penso che raccontare le proprie esperienze sia poi il modo migliore per farti capire come mettere in pratica questi concetti che magari in prima battuta potrebbero sembrare molto teorici e poco concreti. Allora, il primo punto fondamentale è quello di porsi un obiettivo. Ora, la tematica di scegliere un obiettivo è una tematica che ti assicuro, dopo quasi ormai tre anni da formatore, è sottovalutata dal 99.99% delle persone. Prima di tutto perché nessuno sa veramente qual è la ragione profonda del perché scegli un obiettivo. Tant'è vero che in consulenza la prima cosa che io chiedo agli studenti è perché vuoi questo obiettivo? Perché vuoi guadagnare 10, 20, 30, 100 mila euro? E tipicamente la risposta è scena muta, qualcuno prova ad abbozzare una risposta, ma non è mai una risposta sicura, certa, consapevole. Ora tu mi dirai, e che c'entra tutto questo con il costruire un mindset per diventare imprenditori? Beh, te lo spiego raccontando di un aneddoto. Quella che vedi in questo momento è la mia vecchia gold card. Non so quanto riuscirei a vedere anche per chi è abbastanza distrutta, ma su internet trovi varie foto e video dove ho raccontato con tutti i dettagli la storia di questa gold card. Questa è la gold card dei 100 mila euro netti al mese. E perché ti dico che è importante porsi un obiettivo e crearlo nel modo corretto? Perché quello che succederà l'istante dopo che scriverai su un pezzo di carta il tuo obiettivo è che là fuori la gente ti dirà che non si può fare, che è sbagliato, che non sei in grado, che dovresti pensare ad altro. E attenzione, perché l'errore che viene con un evento commesso è credere che questo tipo di informazioni negative ti venga dato dai babbani là fuori che non capiscono nulla. Ecco, ti racconto la mia storia. Io dopo aver scritto questa gold card sono andato in consulenza con un noto formatore italiano il quale mi disse che non si poteva fare, che era un obiettivo troppo ambizioso per il sottoscritto. Dopodiché, a distanza di letteralmente settimane, mia mamma è venuta a sapere di questo obiettivo e si è talmente preoccupata, quasi prendendomi in giro in un certo senso, tanto da dirmi se andava tutto bene, se insomma c'era qualcosa di cui volevo parlare. Questo per farti capire di quelle che saranno le reazioni là fuori non soltanto da persone che oggettivamente parlando potresti dire non capisco nulla ma attenzione perché spesso queste obiezioni provengono da persone o che sono care per te quindi che magari ami, che sono persone che sono importanti alla tua vita o addirittura potrebbero arrivare da persone alle quali tu attribuisci una certa autorità una certa conoscenza. Insomma, il formatore di turno al quale ti rivolgi ti potrebbe dire che quell'obiettivo che ti sei posto non fa al caso tuo. Ecco, la VMR Consulting è nata fondamentalmente in risposta a queste obiezioni uno dei principi che ci ispira è e chi cazzo l'ha detto? Poi un giorno ti racconterò tutti i retroscenari di questo principio ma il punto è questo, il punto è che devi capire che stai per iniziare un percorso che là fuori verrà visto come un qualcosa che non ha senso, che illogio, che irrazionale e più il tuo obiettivo imprendoriale sarà ambizioso più queste reazioni saranno presenti e costanti per cui se non riesci a porti un obiettivo e in particolar modo se non riesci a creare e definire un obiettivo per il quale provi un desiderio ardente per il quale senti l'essere ispirato giorno dopo giorno, secondo dopo secondo prima o poi tutte queste resistenze ti condizioneranno, ti bloccheranno ti faranno mettere in discussione ciò che stai facendo quindi se vuoi avere un mindset imperitoriale la prima cosa fondamentale è questa è il creare un giusto obiettivo, il definirlo e dopodiché il investire del tempo per creare questa relazione quasi ossessiva verso il tuo obiettivo attenzione perché ossessione è una cosa positiva quando ovviamente viene interpretata nel modo corretto dopodiché si arriva al secondo punto che probabilmente è forse quello più importante di tutti devi settare il tuo mindset che detta così potrà sembrare un ok, devo quindi cosa faccio? col fucile punto verso qualcosa? no, ti spiego che cosa significa è molto probabile che se hai completato nel modo corretto il primo step tu ti trovi a cercare di raggiungere un qualcosa un risultato che è sicuramente ambizioso che sicuramente all'inizio sentirai fuori dalla tua portata fuori dalla tua zona di comfort un qualcosa che sentirai non appartenerti per cui ciò che bisogna fare sono sostanzialmente due cose da una parte devi settare la tua mente per portarla alla stessa frequenza del tuo obiettivo questo perché è importante? perché se per esempio in questo momento non sai come raggiungere il tuo obiettivo se in questo momento non ti senti all'altezza di quell'obiettivo non ti senti in grado di raggiungerlo è perché sicuramente stai vibrando ad una frequenza diversa da quella di questo obiettivo quindi quando fai l'esercizio, la visualizzazione ad esempio ho fatto vari video che ti invito a consultare per tutti i dettagli o quando magari fai altri esercizi solitamente se li fai nel modo corretto applicando quello che noi chiamiamo il processo di riprogrammazione mentale non dovresti avere dettagli ciò che stai facendo è sintonizzarti con la frequenza di questo risultato far sì che tutto il tuo corpo e tutta la tua mente tutto il tuo spirito, quindi tre stati nei quali viviamo siano totalmente allineati con questo obiettivo ma non basta perché c'è un altro aspetto molto importante specialmente se stiamo parlando di mindset per diventare imprenditori perché l'arrivare alla frequenza dell'obiettivo da sola non basta poi è necessario compiere azioni che effettivamente ti permettono di portare nella realtà fisica questo risultato quindi tu in realtà quello che vuoi è arrivare ad una situazione nella tua vita nella quale sei un imprenditori successo che guadagna la cifra x che in questo momento hai in mente quindi come si fa nel concreto a far sì che ciò si manifesti fisicamente ecco un punto importante del compiere azioni è quello di apportare i cambiamenti necessari quando si parla di mindset per imprenditori ci sono sicuramente dei modi di pensare differenti che devi acquisire e quindi in ultima istanza dei paradigmi che devi cambiare io durante il mio percorso imprenditoriale ho cambiato i paradigmi che sto per illustrarti e devo dire che li ho anche cambiati più volte soprattutto quando ho dovuto fare lo switch dai 100 cappanetti al milione al mese primo fra tutti sicuramente il paradigma del denaro su questo canale abbiamo parlato un sacco di volte se hai avuto modo di partecipare ad uno dei workshop del sottoscritto ad esempio il mindset milionario sicuramente avremo avuto modo di approfondire ulteriormente fatto sta che la tua relazione con il denaro è fondamentale se vuoi acquisire un risultato che evidentemente ha a che fare con il denaro cambiare il paradigma del denaro non è un optional è un obbligo se vuoi diventare un imprenditore e il problema principale quando si cambia questo paradigma è che evidentemente bisogna prestare molta attenzione a quali sono le fonti dalle quali attingi per cambiare questo paradigma quello che voglio dire è che certamente non puoi chiedere consiglio a mamma e papà se sono squattrinati all'amico che magari fa il dipendente o in un certo senso neanche all'imprenditore ultra trilionario che in questo momento è veramente distante non soltanto dalla realtà in cui vivi ma anche dall'obiettivo che vuoi perseguire ecco perché ad esempio all'interno di master 10k c'è un modulo che si chiama paradigma dell'imprenditore che ho pensato per fornire quelle che sono state le abitudini credenziali che ho utilizzato per cambiare ad esempio il mio paradigma del denaro quando lavoravo per determinati obiettivi per i 10 per i 30 per i 100k perché ovviamente quel tipo di abitudini potrebbero andare bene se il tuo obiettivo è guadagnare un milione o 10 milioni quindi anche questo ti sottolinea il perché specialmente il paradigma del denaro è un paradigma che si cambia costantemente dopodiché è sicuramente molto importante cambiare il tuo paradigma sul business quindi che cosa significa fare business soprattutto che cosa significa fare business online nel momento in cui hai scelto questo tipo di canale per fare il tuo business quindi internet tra l'altro mentre registro questo video proprio in questi giorni, in queste settimane sto lavorando ad un nuovo corso che si chiama Mindset per il business online che sarà un corso opzionale per gli studenti di master 10k e proprio in questi giorni stavo realizzando delle lezioni che mi hanno fatto in un certo senso ispirato anche per questo video perché tipicamente là fuori soprattutto una certa fascia di età è influenzata negativamente da tutti quei pregiudizi che ruotano intorno al fare business online quindi io parlo di paradigma del business ma in realtà ci sono agganciati degli altri paradigmi ad esempio il paradigma del lavoro solitamente si ritiene che sia professionale lavorare in ufficio in giacca e cravatta quindi l'idea di stare in casa tutto il giorno al computer magari in ciabatte come sono io in questo momento può essere un qualcosa che crea frizione a tanti quindi anche se tu dici no ma io voglio fare l'imprenditore voglio guadagnare xyz poi sono questi motivi per i quali ti senti in difetto e ti senti strano, diverso dalla maggior parte della popolazione e insomma altri paradigmi che poi ti lascerò scoprire all'interno di questo corso che sto registrando anzi facciamo una cosa se ti interessa avere maggiori dettagli su quello che è il mindset per diventare imprenditori magari se vuoi raccontare qualche retroscena in più di quello che è stato il mio percorso a 0 a 100k scrivmelo nei commenti che magari realizziamo un videodoc il paradigma dell'imprenditore ne ho parlato tante volte soprattutto nella docuserie che abbiamo registrato il boss del mindset che la trovi qui su questo canale il paradigma dell'imprenditore è un paradigma molto importante soprattutto se in questo momento aspiri al passaggio da dipendente a imprenditore o magari sei uno studente che sta finendo i suoi studi e che vuole lanciarsi direttamente nella sua carriera imprenditoriale è molto importante interpretare nel modo corretto il ruolo dell'imprenditore e conseguentemente quello che sarà il tuo ruolo e anche da questo punto di vista devo dire che questo è stato un paradigma abbastanza complesso da superare da cambiare almeno per quanto mi riguarda perché c'erano agganciate tante emozioni e tanti ricordi con vari membri della mia famiglia ti lascio alla docuserie del boss del mindset per tutti i retroscena dopodiché quindi questo per capire per un attimo diciamo fare un breve recap è tutto ciò che può essere necessario fare non soltanto per settare il tuo mindset ma anche poi per apportare quei cambiamenti necessari che ti servono per poi compiere le azioni che ti porteranno a guadagnare certi soldi ad esempio un altro paradigma che anticipo poi ci farò un video a riguardo è stato uno dei paradigmi che ha cambiato Bob Prottor nel suo percorso imperitoriale è il paradigma della ricchezza cioè cambiare il proprio modo di pensare rispetto a ciò che sia necessario fare per diventare ricchi per accumulare ricchezza per guadagnare di più che sono tutte quante tematiche che soprattutto all'inizio si tende a sottovalutare perché si pensa che sia tutto quanto una tematica di devo imparare come si fanno i soldi quando invece in realtà ad esempio non dovrai mai imparare come fare i soldi ma come guadagnare soldi sono due cose diverse come dico sempre se vuoi imparare come si fanno i soldi fatti assumere la banca d'Italia che te lo spiegano come si stampano i soldi terzo step anch'esso importante perché poi è il cortocircuito che porta tanti a interrompere questo percorso è l'avere fede su quello che si sta facendo quando spiego questo concetto la prima cosa che mi viene in mente è pensare al classico studente che fa il suo esercizio di visualizzazione apre gli occhi e poi c'è figura di sé posso fare x, y, z apre gli occhi e ciò che vede è una profonda differenza tra ciò che ha visualizzato e magari quello che in questo momento è la sua stanzetta lo so lo conosco bene perché qualche anno fa credo che ne siano passati più di 10 ormai mi sono ritrovato in un momento della mia vita abbastanza compresso dal punto di vista economico perché vivevo con 130 euro al mese a Berlino e mi ritrovavo spesso a dover rubare le bottiglie di plastica dall'ufficio per portarla al supermercato e farmi dare perché a Berlino si fa il riciclo della plastica e del vetro e farmi dare uno scontrino di un euro e qualcosa per poter cenare quindi so che cosa significa provare a fare questi esercizi in un momento nel quale tutto intorno le evidenze fisiche ti dicono esattamente che è impossibile che è infattibile che non si può fare che è troppo distante della vita che vivi in quel momento ma la realtà è che se tu riesci a costruire fede se tu riesci a costruire consapevolezza su cosa stai facendo su come funziona la riprogrammazione mentale su come funziona la tua mente riuscirai a superare anche queste evidenze fisiche ed è questo il motivo per il quale il primo paradigma in assoluto che consiglio di cambiare non riguarda i soldi non riguarda il business non riguarda l'imprenditoria ma riguarda la riprogrammazione mentale ciò che io definisco essere il paradigma primordiale perché se non crei un credo una fede incrollabile sul processo di riprogrammazione mentale sul fatto che funzionerà anche per te anche se in questo momento sei povero senza soldi col conto a zero con tutte le disgrazie possibili e immaginabili è evidente che qualunque cosa proverai a fare non avrai la costanza e la perseveranza necessaria per portarla avanti quindi questo in realtà è il terzo step ma in un certo senso rappresenta anche un punto di partenza senza il quale non si può effettivamente partire quindi da questo punto di vista un aspetto che mi ha aiutato tantissimo nel mio percorso è stato l'interiorizzare le leggi dell'universo le 19 leggi dell'universo su cui poi si basa il processo di riprogrammazione mentale ma di questo ne parliamo in un altro video quindi questi sono i tre step fondamentali che ti servono per costruire un mindset adeguato per diventare imprenditore non mancherò nel corso delle prossime puntate di fornirti degli altri dettagli quindi mi raccomando di iscriverti al canale e fare tutto quello che serve per rimanere sintonizzato e per non perderti i prossimi video tra l'altro ti anticipo già che come vedi non è soltanto un discorso teorico anzi tutt'altro la riprogrammazione mentale è qualcosa di molto pratico ed è un qualcosa che avendola applicata ormai da più di tre anni a questa parte sulla quale ho veramente tanta consapevolezza e tante esperienze da condividere che poi di fatto è ciò che rappresenta il nucleo fondante di Master 10K che è un percorso di 12 mesi il primo ed unico percorso in Italia di riprogrammazione mentale completo pratico pragmatico che è pensato per farti costruire un business di successo e da questo punto di vista ti invito ancora una volta a cliccare sui link che trovi qui in descrizione per raccogliere tutte le informazioni su Master 10K c'è anche un numero verde 800 497 773 e anche Whatsapp che sono due strumenti che ti permettono di entrare in comunicazione con i miei consulenti che ti potranno aiutare nel capire quella che è la soluzione migliore per la tua specifica situazione detto questo si chiude anche questo video chiaramente ci vediamo alla prossima puntata fai il tuo gioco e come sempre al tuo successo grazie a tutti grazie a tutti